Ciao a tutti da AC News! Vediamo il trailer di oggi, subito dopo le notizie di cinema! Ehi, Cristi, vuoi dire ciao? E dai! Andiamo, fa un piccolo saluto a Cristi! Sta arrivando! Di quello che è successo da piccole, io non ricordo niente! Qualunque cosa fosse, si nutriva del terrore! Più gli davamo attenzione, più aumentava! Ok, ora è accesa! Ti ricordi le regole? Sì, dire Bloody Mary tre volte! D'accordo, spengo le luci! Sei pronta? Bloody Mary! Bloody Mary! Bloody Mary! Io ho paura! Katia! Mettila! Scusami! Mamma, che divertente! Scusami! 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 Dal 3 al 13 agosto, si terrà la 64esima edizione del Festival del Film di Locarno! Durante la manifestazione verrà consegnato il pardo d'ora alla carriera a Dabel Ferrara, regista simbolo del cinema indipendente americano. Tra i 20 film in gara ci sarà Super 8 di J.J. Abrams e Cowboy and Aliens con Daniel Craig e Olivia Wilde. È ufficiale, tra due mesi inizieranno le riprese di Expendables 2, l'action movie diretto da Sylvester Stallone. Il set è ambientato in Bulgaria e nel SuperCast sono state confermate due grandi new entries. Oltre ad Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis e Jason Statham, sono stati ingaggiati anche John Travolta e Chuck Norris. E per oggi è tutto, arrivederci da AC News!